Dopo la nevicata della notte appena trascorsa e di quella di questa mattina, Ravenna la situazione sta tornando alla normalità. Nella giornata di domani le scuole saranno aperte, ha dichiarato il sindaco Michele De Pascale. Tutti i mezzi dell'amministrazione comunale e anche l'amministrazione provinciale sono al lavoro al fine di mettere le nostre strade nelle migliori condizioni possibili per la sicurezza della circolazione dei cittadini e anche, stiamo lavorando con la prefettura, soprattutto delle imprese, nel senso che nella giornata di ieri il blocco completo di tutti i mezzi pesanti nel nostro territorio è stato molto penalizzante per il porto di Ravenna. Fra l'altro questa mattina mi sono sentito anche col Presidente Bonaccini perché anche nel distretto ceramico si iniziava a sentire molto la problematica della mancanza di approvvigionamenti dal porto. Insieme alla prefettura abbiamo lavorato perché almeno in quella direzione potessero essere ripristinati i traffici. L'altro elemento, so di aver creato qualche disagio a molte famiglie ravennati, perché lo dico perché anche io lo vivo in prima persona, in questi casi è sempre difficile o all'ultimo minuto, in casi di emergenze come queste, o a volte anche in casi di malattia, trovare soluzioni per i propri figli nel caso di chiusura delle scuole, però alla fine ieri sera abbiamo ponderato, abbiamo valutato tutti gli elementi, le condizioni meteo erano in peggioramento e fra qualche disagio da affrontare è un pericolo di sicurezza soprattutto per gli scuolabus, soprattutto nel nostro forese dove a volte i tragitti sono molto lunghi e sono anche in strade di piccole dimensioni, ho dovuto dare la priorità alla sicurezza. Questa è una scelta generale, la scelta che ci siamo dati è sempre quella di privilegiare la sicurezza e la proprietà degli interventi che vengono fatti. Quindi mi dispiace, veramente capisco i disagi di alcune famiglie, ma penso di aver fatto la cosa giusta e comunque l'ho fatta nell'interesse dei più piccoli e della loro sicurezza. Ora il lavoro è continuo per la manutenzione, domani le scuole saranno aperte perché nella giornata di oggi è stata fatta, viene fatta, verrà fatta un'attività molto forte di pulizia delle strade e di spargimento di nuovo sale. Anche oggi i cittadini di Ravenna hanno avuto la possibilità di mettere in campo le dotazioni, tutti, anche quelli che magari erano stati un po' diciamo si erano dimenticati, erano stati disattenti e quindi non avevano previsto l'arrivo del maltempo e quindi non avevano né gomme termiche né catene e quindi tutti siamo pronti con grande attenzione, mi raccomando, domani mattina per poter anche riprendere l'attività delle scuole. Poi la situazione è sotto monitoraggio perché anche nei prossimi giorni gli eventi meteo rischiano di essere in peggioramento quindi terremo tutti i cittadini nel massimo dell'informazione e ricordiamo a tutti di prestare grandissima attenzione.